Ed è comunque rimasto un cavallo, lui corre adesso però la sella non gliela puoi mettere è un po' d'affezione. Ci fa carettare? Sì, sì. Sì, mi sembra di sì, dai. Sì, pure sempre, un maschio intero diciamo, è vissuto tanto a contatto con le persone. Sato atta balanna ava, asri hai, mi vatti sattu arti, inni asri hai, valloi vittarai, mi vallan nguhe kaghi hai di. Ma è come va attac, mi vallan, c'è ram ballo in, ballo, mi methi, mi methi vattac. Eccola, eccola. Eccola, eccola. Eccola. Eccola bello un altro, si, ve l'ha visto? oh bello tu è meglio che stai fuori ferma lì ma cosa vuoi fare? vuoi salire sopra? ciao ciao buona 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 guarda qui guarda qui qui c'è la mele quando veniamo qua non sono finite non sono più le tira tutte le mani non sono più ecco come ti chiami? queste sono le giugiole mangia queste o no? no non si mangiano queste no si si mangia? si solo che abbiamo messo una piantina di quelle che erano nate dalla pianta che le faceva belle grosse e queste sono rimaste piccole perché probabilmente non sono si si a Budapice no col calmo sono un po' selvatiche diciamo però si possono essere vestibili provo si ha lo stesso gusto si ha lo stesso gusto ha lo stesso gusto gusto c'è Dubai c'è questo c'è grande mh 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 vabbè Marta ferma ferma ah cacchi ma non sono maturi cacchi no non sono maturi sono maturi no finita cacchi oh madonna faccio il pilacco cacchi adesso sei palo tu dieci l'antenna del telefono cacchi cacchi ah ma dovrebbe essere fila finita con hi mh sono qua, andiamo in là, ancora un bel pezzo grazie per farci un certo ruolo Massimo non è che ha più le forze di fare... eh immagino perché con tutte le rogni che ha da un bel pezzo un bel pezzo e non so una cinta di più diversi quattro perché tu stai a trovare animale? ora, sono ok io stai a trafficando pareccia, pareccia così no no così guarda guarda che bravo guarda ciao ciao bello bello foto